Mr.Eating Squad, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Sofia e questo è il primo video del 2021. Oggi volevo farvi gli auguri per un nuovo anno sperando sia migliore di quello che abbiamo passato. E il 2021 non è stato un anno bello. Speriamo che il 2021 porti felicità. Il covid vada via. Detto questo io vi mando un bacione. Nel fruttempo qui passano macchine ma fa niente. E noi ci vediamo nel prossimo video che uscirà questo martedì. O meglio il martedì della settimana prossima. Sto registrando oggi che è sabato il giorno in cui dovrei pubblicare perché gli altri giorni non avevo potuto. E lo speciale 1000 iscritti appunto uscirà martedì. Sarà un video molto speciale perché dopo di quello arriveranno anche cover. Vi saluto. Ciao ciao. Ciao ciao.